Gelati, sorbetti, biscotti, creme, bavaresi, budini, charlotte e ancora zupe inglesi sono solo alcuni dei prodotti che un pasticcere deve saper preparare. Il lavoro tuttavia è più complesso, oggi infatti gli obiettivi del pasticcere sono cambiati e la sua attività di continua ricerca e aggiornamento offre accanto ad una maggiore qualità anche un rinnovato gusto estetico e non. Dall'accurata scelta delle materie prime all'utilizzo di macchinari sempre più sofisticati anche il pasticcere è chiamato ad un rinnovamento costante che lo tenga in linea con le richieste del mercato. Devi sapere quanto devi produrre ogni giorno per quanto gli va nel negozio, chiaramente non puoi produrre il doppio di quello che va perché poi sono cose che vanno male tipo crema, panna, queste cose qua vanno male e rischi di buttarvi a tutto e quelle sono le esperienze che tu fai, ti maturi nell'arco degli anni che pratichi questa professione. Niente, oltre alle lezioni manuali devi sapere queste cose qua, devi fare gli ordini che sono una cosa importante, devi sapere tutte le leggi, non so, la 626, l'HCCP, l'intensibilità, c'è un sacco di cose, c'è la burocrazia ce n'è un sacco, oltre che a livello manuale, c'è il tuo lavoro lo fai, ormai lo fai, non dico occhi chiusi, ma ormai lo fai con semplicità e poi c'è tutto il resto dietro. L'igiene, chiaramente, adesso noi ci fanno fare sempre dei corsi, ci martellano giustamente perché l'igiene ci va, chiaramente. Tanto ormai c'è una pratica che uno fa tutti i giorni, però devi fare i prodotti nell'ordine del laboratorio, pulito, occhi alle scadenze. Fare gli ordini, con i rappresentanti naturalmente devi riguardare il costo, il prezzo e la qualità, perché ci va un po' il prezzo, ma devi tenere anche dei prodotti abbastanza di qualità, se vuoi, che venga delle, cioè non mangiabile, ma che ci venga una cosa fatta bene, via. Quello del pasticcero è un messiere antico e nello stesso tempo di sicuro a venire. Torte bignè, che una volta facevano parte dei generi cosiddetti voluttuari e di lusso, sono oggi entrati quasi costantemente sulle nostre tavole. Il lavoro può occupare il sabato, la domenica e anche la vigilia di Natale. Non vi sono dunque i comodi orari impiegatizi. Subito si alza all'alba, abbastanza all'alba, si incomincia a fare le varie brioche, comincia a fare i vari pasticcini, si chiamano i gusci, comincia a far riempire i cannoni. Una volta che hai fatto i gusci, li metti in forno, aspetti che si raffreddino, li cominci a riempire. Poi se c'è qualche torta da fare, si comincia a fare torte, finisci la tua fresca, a fare i tuoi bignoni, i tuoi scenti, i tuoi fruttini. E da lì incominci poi a fare magari torte da vetrina, comincia a ordinarti la tua vetrina da negozio, dalle torte, comincia a fare un po' di biscotti secchi, guardi le prenotazioni che ci sono, incomincia a fare poi i biscotti secchi, quelli che mancano. E così la giornata tipica delle pasticcere, e alla fine giornata cominciamo a rifare le brioche per il giorno dopo, gli impasti. Per un giovane soggetto all'obbligo di istruzione, diverse sono le strade per conseguire la qualifica professionale, frequentare un percorso formativo ed essere assunto come apprendista. In Valle d'Aosta ad oggi, la Regione rilascia per coloro che sono iscritti all'Istituto Professionale Regionale Alberghiero, nell'ambito dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, un attestato di qualifica di operatore nella ristorazione addetto alla cucina. Tra le competenze in uscita da questi percorsi si possono sicuramente elencare quelli attinenti alla realizzazione di ricette di pasticceria e gelateria. A conclusione del ciclo di studi obbligatori, è comunque necessario intraprendere un percorso di apprendistato presso un datore di lavoro e conseguire una qualifica in un arco di tempo variabile fra i 2 e i 5 anni. in relazione all'inquadramento contrattuale previsto dal datore di lavoro stesso. Ad un adulto o a chi opera nel settore, si consiglia al fine di completare la propria preparazione professionale, di verificare periodicamente l'esistenza e le eventuali proposte formative realizzate dagli enti di formazione. Mi sono dedicata per tanti anni a fare quasi esclusivamente la mamma, volevo rimettermi in gioco. Mi piace molto la pasticceria, ho dei figli golosissimi e quindi magari inizierò a fare le prove con loro e poi mi piacerebbe magari avere l'opportunità di fare un part time in una pasticceria. Credo che sia molto creativo, che sia un lavoro creativo, che sia un lavoro che ti profuma il cuore quando lo fai perché sei avvolto da un sacco di dolcezze. Sono profumi tutti molto dolci, mi sanno tanto di casa, di famiglia, di dolcezza. Credo che siano cose veramente delicate, devi usare prodotti comunque sempre freschi, comunque devi avere uno smercio grandissimo, quindi credo che sia davvero difficile poter aprire una pasticceria in un paese. Il mercato della pasticceria garantisce sempre buone opportunità, oltre che nei locali tradizionali un pasticcere può trovare lavoro anche in grandi alberghi, ristoranti di primo livello e villaggi turistici su navi da crociera. Un'altra strada è quella delle aziende produttrici di attrezzature semilavorati per la pasticceria. Sempre alla ricerca di personale addetto, le dimostrazioni pratiche molto richiesti sono anche i consulenti del settore. Deve essere creativo, questo sicuramente, e deve crearsi, cioè se riuscisse magari a crearsi il prodotto particolare sarebbe la chicchina. Cioè ognuno dovrebbe comunque avere una chicchina nel proprio negozio, giusto? Una cosa di nicchia che fa solo lui, magari, non lo so, magari anche un po' tipica con i prodotti, che ne so, le nocciole, le castagne, tutti i prodotti che abbiamo qui in valle. Grazie. Grazie. Grazie.